In Spagna concessa la libertà condizionale dietro pagamento di una cauzione da 10.000 euro ai tre sacerdoti e un laico arrestati lunedì con l'accusa d'abuso sessuale su minori. Le indagini erano scattate dopo la denuncia di un giovane, oggi 24enne, che aveva inviato una lettera al Papa. Una seconda denuncia è stata depositata ieri presso il Tribunale di Granada.